Siamo agli atti finali di questa insolita campagna elettorale estiva. Facciamo dunque un breve riepilogo. A contendersi la presidenza, ricordiamo, sono ben otto. Il governatore uscente, Michele Emiliano, candidato al secondo mandato, guida una coalizione formata da Partito Democratico, Italia in Comune, Puglia Solidale Verde e da tante piccole liste civiche e non. Diversi candidati bitontini in corsa. L'assessore Domenico Nacci e Maria Grazia Gesualdo in Italia in Comune, mentre Mariana Leggista con i Popolari con Emiliano. Anna Maria Mendolara è in corsa per la lista Senso Civico. Principale sfilante è Raffaele Fitto, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Unione di Centro, Nuovo PSI, la Puglia domani. Tra i candidati consiglieri ci sono il consigliere uscente Domenico Damascelli per Forza Italia, già reduce da un quinquagno all'opposizione, e Luciana Tumolo, la Puglia domani. Antonella Laricchia, ancora una volta, guida il Movimento 5 Stelle, che in Puglia non ha accettato l'alleanza con il Partito Democratico. Con lei c'è il bitontino Antonio Lisi. Sostenuto da Italia Viva e più Europa, invece, Ivan Scalfarotto sfida a sinistra Michele Emiliano. Nella sua coalizione, nella lista del partito di Renzi, si è candidato Antonio Sgaramella. Anche l'ex pentastellato Mario Conca, con la sua lista civica Cittadini Pugliesi e tre contendenti. Con lui è candidato il concittadino Vito Dattuoma. Ci sono infine Pierfranco Bruni, perfiamma tricolore, Nicola Cesaria, sostenuto dalla lista Lavoro, Ambiente e Costituzione, in cui è candidato Arcangio Valentino, e Andrea D'Agosto, sostenuto dal fronte sovranista italiano e dalla lista Ricostruire l'Italia Bari.